Il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Parastolascaris il Console Generale del Brasile, Paolo Cordero de Andrade Pinto, in visita a Torino per una serie di appuntamenti istituzionali. È stato un incontro di reciproca conoscenza dove sono stati affrontati temi di diversa natura e sono stati condivisi i legami storici e culturali che uniscono Brasile e Italia.